L'Italia invia le armi all'Ucraina, in Parlamento scoppia il caso politico e sui social diventa virale, il coro unanime di chi si scaglia contro questi aiuti militari, anche a Fano, regna la preoccupazione. Non bisogna aiutare a fare la guerra, basta, è uno schifo, è vergognoso sinceramente. Nel supermercato del Fano Center i buoni spesa per le famiglie che ospitano le persone in fuga dalla guerra, solidarietà anche da Monbaroccio, il sindaco ha consegnato i medicinali acquistati grazie alle donazioni da destinare alla popolazione ucraina. Saper usare il defibrillatore può fare la differenza e salvare una vita. Da Pesorfeste è un corso gratuito per gli allenatori ed alcuni atleti del muraglia calcio. Bellezza, colori e profumi della primavera, ecco il giardino di Tulipani più grande della provincia, in via Lombardia-Pesaro all'interno di un noto centro florovivaistico. Tra poco dopo il telegiornale torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. La notizia, come avete sentito, ha fatto discutere il discorso alla Camera del Premier Mario Draghi che dopo l'intervento di Zelensky ha annunciato l'aumento delle spese militari e l'invio di nuove armi all'Ucraina. Noi su questo oggi abbiamo chiesto le parere dei fanesi che si dicono contrari alla decisione adottata dal governo. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con aiuti, anche militari, alla resistenza e questo è il punto chiave del discorso del capo del governo dopo la richiesta di aiuto avanzata da Zelensky nel suo intervento alla Camera dei Deputati. Tra le opzioni che Roma ha sul suo tavolo per aiutare l'Ucraina ci sarebbero anche gli antidroni e i sistemi elettronici per disturbare gli attacchi russi. Nuove armi per mostrare che l'Italia farà la sua parte al fianco dei paesi alleati ma che ora sono diventati un caso politico. Infatti se da una parte Draghi è intenzionato ad andare avanti, convinto fino in fondo delle sue scelte dall'altra in Parlamento c'è chi si dissocia. E sui social è boom dell'hashtag not in my name, non in mio nome. Anche i fanesi sono preoccupati e contrari a questo tipo di aiuti. Lei è d'accordo sull'invio delle armi da parte dell'Italia all'Ucraina? Preferisco di no. Però penso che la soluzione sia diplomatica e non con le armi. Sono contro la guerra e quindi sarei contro anche nel mandare le armi. Pensa che debbono essere trovate altre soluzioni alternative? Sì, la soluzione alternativa sarebbe smettere di fare la guerra dopo quello che la storia ci ha insegnato. Siamo qui a punto a capo, ancora a cercare di conquistare territori non nostri. Siamo un paese ridicolo, facciamo ridere i polli, ci facciamo prendere in giro da tutta Europa, da tutto il mondo e questo è quello che penso io. Non bisogna aiutare a fare la guerra, basta. È uno schifo, è vergognoso sinceramente. Non è giusto comunque mandare le armi eccetera. Cioè alimenta la guerra comunque. Hai paura, sei preoccupato? Un po' sì. Ci sentiamo coinvolti nel senso etico, morale diciamo, più che altro, più che l'arrivo, un'espansione, per ora, ma non si sa. Io sono contrario, perché ci mettiamo in una guerra che ha un evento storico molto importante, in quanto Stalin ha ucciso non so quanti milioni di ucraini, di contadini ucraini. Però non c'era l'atomica. Adesso questa guerra può diventare una guerra atomica. Cioè con la guerra atomica abbiamo chiuso, tutti, tutti abbiamo chiuso. Comunque ha detto Putin che il 9 maggio finisce l'operazione. Speriamo. Speriamo, speriamo. Comunque io sono contrario all'invio, anche perché le armi italiane non è che gli mandiamo. Anche se abbiamo venduto invece le armi cararmati dismessi alla Russia. Abbiamo venduto parecchi cararmati. Anche perché si parla di circa parecchi milioni di euro di queste armi. Esatto, anche perché l'Italia è un grosso produttore di armi. Io non sono d'accordo, per me è una cosa molto avvilente questa, distruggere tutto il creato per il potere con queste guerre. Quindi è giusto dare le armi? Non doveva esserci sta guerra, già dall'inizio. Questa è la mia risposta. Perché fare la guerra? Perché non parlare? Dopo non lo so se, io non sono un politico, se dare le armi può mettere in difficoltà anche l'Italia, perché qui non si sa cosa può succedere. La guerra è sempre brutta e quindi sarebbe sempre meglio evitare gli scontri armati. Adesso vediamo come andrà a finire. Certo non dipende da noi, il semplice gerente comune. Sono stati celebrati oggi pomeriggio in Cattedrale a Pergola i funerali di Dario Conti, stimato avvocato, ex assessore e sindaco della città dei Bronzi Dorati per 12 anni, dal 92 al 2004. Conti, 71 anni, è morto sabato scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Urbino, dove era stato trasportato per un grave malore. Cordoglio è stato espresso anche dall'attuale amministrazione comunale, che ha ricordato il suo impegno, definito importante e prezioso per Pergola, svolto con grande passione e serietà. Una coppia di coniugi è stata rapinata in pieno giorno. Ieri a Pesor è successo intorno alle 16 nel sottopasso dei Cappuccini. Una donna che si stava recando alla stazione ferroviaria insieme al marito è stata circondata da un gruppo di ragazzi, erano 4 o 5, che in pochi secondi le hanno strappato il ciondolo d'oro che portava il collo. La vittima ha subito allertato la polizia che ora indaga sull'accaduto. Solo pochi giorni fa, nello stesso punto, un gruppo di minorenni aveva rapinato del portafogli un anziano. Il dottor Umberto Gnudi, dopo aver guidato per due anni il pronto soccorso, ha comunicato le sue dimissioni dall'azienda Marche Nord. Già il 15 febbraio scorso era stato sostituito da Giancarlo Titolo, nominato direttore facente funzioni, fino al concorso per il nuovo primario a causa del mancato rientro di Stefano Loffreda in servizio all'ospedale della capitale dell'Arabia Saudita. I malumori all'interno dell'azienda però erano iniziati subito dopo le dichiarazioni di Gnudi che, riferendosi ai Novax, aveva pubblicato su Facebook un post con scritto non voglio più avere a che fare con voi, se venite al pronto soccorso o malati vi curerò ma senza parlarvi. Sappiate che vi disprezzo, non è questione di libertà di pensiero, aveva precisato, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete e non ne meritate, avrete le mie cure al meglio che posso, ma sappiate che mi fate schifo. Dichiarazioni che evidentemente non erano state aggradite dall'azienda. Oggi invece il sindaco di Pesero Matteo Ricci ha annunciato che proporrà in Consiglio Comunale la benemerenza della città al dottor Gnudi. Torniamo a parlare della guerra in atto. Sabato scorso è stata presentata una iniziativa in favore dei profughi ucraini che consiste nella distribuzione dei buoni spesa per gli acquisti dei generi di prima necessità. Si chiama Adotta una spesa e dell'ultima iniziativa messa in campo da Spazio Cona, a derottare i club in cooperazione con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Fano. Il progetto è dedicato ai rifugiati ucraini presenti nel territorio e alle famiglie ospitanti e consiste in un pacchetto iniziale di 4.000 euro di buoni spesa da utilizzare all'interno del supermercato di Bellocchi. Con la collaborazione della Caritas e dell'ambito sociale 6, composto da nove comuni tra cui Fano Capofila, verranno individuati beneficiari dei buoni del valore di 20 euro ciascuno e non cumulabili che potranno essere utilizzati per acquistare generi di prima necessità. Parlando con dei miei collaboratori, visto che noi abbiamo una ragazza che lavora con noi, che è ucraina, abbiamo pensato di come potevamo aiutare questa popolazione. Quindi abbiamo cercato noi, Rotary, insieme a Caritas, che sarà la figura che gestirà questi buoni, iniziare a fare questa iniziativa. Saranno dei buoni che possono usufruire all'interno del punto vendita Spazio Conad, che è qui al Fano Center di Fano, che possono adoperarli per la spesa. Il Rotary, ha evidenzato la Presidente Sabrina Ambrosini, è sempre sensibile nei confronti di chi è in difficoltà. Già due anni fa, ricordato, durante il lockdown erano stati distribuiti dei buoni spesa per le famiglie più bisognose, iniziativa poi replicata nel 2021. Questo dunque è il terzo intervento di sostegno, ma l'iniziativa proseguirà con l'attivazione di una raccolta fondi, per la quale potranno dare un proprio contributo tutti i cittadini. L'importo di 4.000 euro è un importo iniziale, che potrà essere incrementato da chiunque lo desideri. Le modalità poi per poter contribuire verranno comunicate dalla Caritas nella presentazione di questo pomeriggio e saranno poi comunque pubblicizzate dagli organi di stampa, sui profili social di tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa e all'interno di Spazio Conad. Una comunità è unita, ha dichiarato il Sindaco Seri, se c'è responsabilità sociale in un'emergenza come questa. Tali segnali servono per rafforzare l'identità e la voglia di dedicarsi agli altri. Questa crisi è una crisi importante, bisogna far rete, c'è questa piattaforma programmata dall'ambito sociale che sta funzionando e quindi c'è una bella risposta di sensibilità, di solidarietà di tante famiglie, di tante associazioni, ma c'è anche una bella regia che riesce a dare una risposta importante, concreta a quelle che sono le esigenze. E' consapevole che questa crisi non è per finire dietro l'angolo, durerà ancora per un periodo importante, quindi queste iniziative sono significative, ma quello che conta di più è appunto questa rete dell'accoglienza che sa parlare plurale, sa fare sistema e sa dare risposte alle fragilità. Presente sabato scorso anche il vicario pastorale Don Francesco Pierpaoli che ha lanciato un messaggio alla cittadinanza. Un prezioso assegno perché va a integrare quello che le singole famiglie fanno nelle loro case. L'accoglienza è un'accoglienza di comunità, quindi l'assegno, come tante altre realtà, sosterranno questa accoglienza che sarà lunga. Quindi un appello che io faccio è che adesso tutti siamo molto presi dall'Ucraina, ma questa accoglienza sarà lunga e noi dovremmo continuare a sostenerla con grande generosità. Dai generi alimentari ai medicinali per l'Ucraina perché sabato pomeriggio il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci si è recato nella sede del Comitato Locale di Pesaro della Croce Rossa Italiana per consegnare i pacchi contenenti farmaci destinati a chi scappa dalla guerra. I prodotti sono stati acquistati grazie alle donazioni dei monbaroccesi e alla collaborazione della farmacia Mazza. Cambiamo argomento e parliamo dell'utilizzo del defibrillatore Pesaro Feste ha dato la possibilità ai ragazzi del gruppo sportivo Muraglia Calcio di formarsi in modo totalmente gratuito. La prontezza e l'efficacia dei primi soccorsi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ogni luogo pubblico e privato dovrebbe essere dotato di un defibrillatore ma è fondamentale la formazione dei cittadini che non hanno esperienza in campo medico o sanitario. La sicurezza viene prima di tutto anche nello sport per questo la direzione e la proprietà di Pesaro Feste hanno voluto offrire ai ragazzi agli allenatori e ai dirigenti del gruppo sportivo Muraglia Calcio un corso gratuito di formazione. Noi collaboriamo e progettiamo assieme alla presidenza dell'ente sportivo del GS Muraglia e ringrazio per questo il presidente Stefano Falcioni noi collaboriamo da anni a tutta la progettualità che riguarda l'attività sportiva dei giovani e quindi molto facilmente abbiamo legato la nostra esperienza di formazione aziendale con l'esperienza della progettualità sportiva dei giovani. L'associazione Formiamoci in ultimo ovviamente è stato il motivo chiave che ci ha permesso di poter dire ok il progetto si può fare è una piccola attività una piccola un piccolo progetto che sicuramente sarà di stimolo anche per altre entità imprenditoriali a donare una piccola parte delle loro capacità e delle loro esperienze anche ad altri gruppi di giovani. Quando ci hanno proposto questa iniziativa poi commentato il presidente Falcioni abbiamo aderito con entusiasmo perché la formazione di chi è a contatto con il mondo sportivo aggiunto è importante per salvare le vite in caso di eventi avversi dopo la parte teorica eseguita in modalità online sabato scorso si è passati alla pratica direttamente nell'impianto di muraglia. Ringraziamo Pesoro Festo la persona di Roberto Marchetti che è il direttore e di Gale Giuseppe che è il presidente con cui abbiamo già abbiamo rapporti di collaborazione sia in ambito sportivo ma anche in ambito lavorativo si conosciamo insomma collaboriamo da diversi anni Pesoro Festo tiene molto questa alle questioni riguardo la salute la formazione la prevenzione degli infortuni quindi ecco questa iniziativa questa attività si inserisce un po' nelle azioni che di solito Pesoro Festo sta portando avanti sia a livello imprenditoriale però anche a livello sociale e naturalmente ringraziamo anche l'associazione Formiamoci nella persona di Matteo Esposito per la disponibilità e la competenza che hanno offerto per questa attività Favorire il trapianto di rene da donatore vivente questa è la finalità dell'accordo Stato-Regioni che la Giunta regionale ha recepito oggi con una delibera l'intesa nasce da una precisa esigenza il trapianto da deciduto non solo prevede lunghe liste di attesa ma spesso si pone anche il problema della compatibilità dell'organo per cui il Ministero della Salute ha voluto incentivare l'informazione su questa alternativa terapeutica che dà ad esempio la possibilità ai familiari di offrirsi come donatori ad oggi in Italia il ricorso al trapianto di questo tipo rappresenta circa il 10% del totale sono circa 140.000 i marchigiani che hanno problemi ai reni mentre idealizzati sono più di 5.700 Il giardino di Tulipani più grande della provincia è a Pesaro all'interno di un noto centro florovivaistico vediamo allora di che cosa si tratta nel prossimo servizio che è stato curato da Filippo Pucci iniziata il 20 marzo scorso la primavera è una delle stagioni dell'anno più belle e spettacolari grazie al risveglio della natura dopo il lungo periodo d'inverno se a questo ci mettiamo una novità ovvero l'idea di un grosso giardino di tulipani lo spettacolo è assicurato il Garden Center Florio di Pesaro organizza per sabato 2 aprile una giornata dedicata a questo fiore con tutti i suoi colori e sfaccettature benvenuti nel primo campo di tulipani anzi giardino di tulipani all'interno della città di Pesaro e ci troviamo proprio a fianco al nostro punto vendita qui in via Lombardia e sarà possibile direttamente dal parcheggio accedere in questo campo giardino dove abbiamo piantato migliaia e migliaia di tulipani che stanno incominciando a fiorire la particolarità di questo giardino è la sua composizione grazie al contributo dei ragazzi dell'istituto agrario Cecchi di Pesaro è stato pensato di adottare la forma di un vero e proprio tulipano con due grosse foglie e il lungo stelo ad arricchire la scena due farfalle realizzate con delle bordure di viole colorate sì ci siamo ispirati ai campi vastissimi esterminati dell'Olanda nella quale si organizzano delle escursioni vere e proprie dove c'è la possibilità proprio di raccogliere i tulipani personalmente e anche qui tra le migliaia e migliaia di tulipani alle mie spalle c'è la possibilità proprio di raccogliere di crearsi un proprio mazzolino e quindi sia di venire a fare un giro in maniera spensierata all'interno di questo campo giardino dai mille colori ma anche di acquistare questi tulipani estirpandoli direttamente dal terreno e comporre personalmente il vostro mazzettino la giunta comunale di Fanno ha illustrato ai residenti agli operatori commerciali e alle associazioni di categoria il progetto della pista ciclabile di Viale Kenne di Via Roma la pista verrà messa in sicurezza con un cordolo ha spiegato l'assessore Fabio Latonelli la ciclabile sarà realizzata con un doppio senso di marcia e verrà rallentata la velocità grazie all'installazione di due piastre rialzate di cui una collocata all'incrocio di Via Tomassoni per garantire la svolta verso gli istituti scolastici inoltre verranno modificati i parcheggi di Viale Kennedy che come spiega l'assessore da spina di pesce diventeranno in linea e saranno pavimentati così da rispettare i passaggi pedonali e carrabili delle abitazioni gli stalli persi verranno ricavati dal parcheggio dei camper subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi ritorniamo qua negli studi di Fanno TV per una nuova puntata di Primo Cittadino ospite il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli dunque rimanete sintonizzati sul canale 19 e vi aspettiamo in diretta tra poco e vi aspettiamo